Una tessera, la mossa ieri di Salvini, dal tuo punto di vista che cos'è? È un siluro a Berlusconi o no? Beh, è chiaramente un siluro a Berlusconi, perché nel momento in cui il centrodestra propone la candidatura di Berlusconi, e questa si va costruendo con difficoltà all'interno del centrodestra stesso e nella ricerca di voti che allarghino questa base, dallo stresso centrodestra, arriva e dice no, ma noi forse abbiamo un piano B, c'è un'altra via di fuga. Cosa ci rimanda a questo? Ci rimanda a tre aspetti cruciali. Il primo è che sono un po' di anni che il centrodestra, i giovani leader del centrodestra, penso a Salvini ma anche alla Meloni, non hanno mai trovato la forza politica di consumare il parricidio, il parricidio politico. Cioè per diventare dei veri leader devono sgombrare il campo da Berlusconi nel centrodestra, se no questo centrodestra è Berlusconi. La seconda cosa è un aspetto spiacevole. È curioso anche alla luce dei rapporti di forza che sono cambiati all'interno dell'alleanza di centrodestra. Tu dici che Salvini e Meloni sono i leader ma forse Italia. È curioso, però attenzione, lì c'è l'altro aspetto. Perché Salvini e Meloni erano i leader sovranisti. Oggi Salvini governa con Draghi, Forza Italia e persino il Movimento 5 Stelle e il PD. La Meloni sta all'opposizione. Già questi due elementi, tra virgolette il parricidio di Berlusconi mai consumato, una parte di centrodestra che sta con Draghi, una parte che sta all'opposizione, ce la dicono lunga sulla confusione nel centrodestra. C'è pure nel centrosinistra la confusione. Terzo elemento è che non c'è una partita tattica. Cioè, se te pensi... La partita tattica non riguarda solo il Quirinale in questo momento, riguarda anche il governo. Tant'è che te nell'introduzione hai detto c'è chi ha paura i 5 Stelle di spostare i Draghi al Colle perché se va via da Palazzo Chigi si va alle elezioni anticipate. Allora, se te pensi alla candidatura di Berlusconi, devi pensare anche a che cosa arriverà dopo al governo. Quindi è chiaro che il centrodestra è andato a Biscaro sciolto, si direbbe in Toscana. Senza un'idea chiara. Sì, l'hanno chiamato, insomma, anche per semplicità giornalistica, patto di legislatura. Cioè, ragioniamo sia su chi andrà a Quirinale, sia nel caso ci andasse Draghi, ma non soltanto in quel caso, ragioniamo anche sul prosieguo del governo e chi sarebbe in quel caso il nuovo capo del governo. Allora, facciamo così. Siccome devo andare in pubblicità, non voglio interrompere nessuna.